Non sono mancati certo i disagi da maggio scorso quando lo stadio Sant'Angelo dei Ricchi è stato chiuso per consentire la riqualificazione della pista d'atletica e non solo, ma da ieri l'impianto nella parte nord della città di Andri è ufficialmente riaperto. Una struttura che ora potrà finalmente essere un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli sportivi, non solo del calcio, impianto fondamentale per tutte le società andriese e non solo, ma anche per l'atletica. L'atletica non ha bisogno, rispetto ad altri sport, di grandissime cose. La pista però, almeno quella, e quindi già avercela, avere un luogo di riferimento, anche quello, sapere che ad Andri si può fare atletica a livello professionistico ma anche a livello amatoriale e sapere però dove si deve andare, perché altrimenti senza questo luogo l'atletica non può partire, diciamo, seriamente. Lavori importanti, nati grazie ad un finanziamento da un milione di euro dal PNRR, primo cantiere ad Andri ad essere concluso con questi fondi, che hanno permesso in realtà una profonda riqualificazione dello stadio. Non c'è solo la riqualificazione della pista, importante è la riqualificazione delle torri faro, tutta l'illuminazione, la nuova illuminazione che insieme al generatore consentirà di utilizzare anche in notturna lo stadio. Quindi questo significa che gare ufficiali, oltre all'allenamenti, potranno essere eseguiti e quindi incrementando quello spazio temporale da dedicare appunto allo sport nella nostra città. Siamo riusciti anche a fine lavori, e ringrazio l'impresa per questo, a ottenere anche una spazzolatura dell'intero campo. Si può apprezzare già stamane, ecco, una qualità del manto erboso davvero, diciamo, eccezionale. All'evento presente anche il mio eletto, presidente della Fidal Puglia, Eusebio Aliti. E' chiaro che il problema principale che noi abbiamo in Italia sono l'impiantistica, gli impianti. La Puglia, almeno sull'atletica leggera, sta crescendo tantissimo da sotto questo punto di vista e quindi adesso sta a noi avviare una serie di attività e fa funzionare questi impianti. Palpabile l'attesa per questa giornata che restituisce per la terza volta, sempre più moderno, l'impianto alla comunità dopo la prima inaugurazione, circa 30 anni fa, e la successiva prima riqualificazione di qualche anno fa. Questo impianto è stato inaugurato 30 anni fa, poi ha avuto più di 4 anni fa l'impianto rigenerato con il manto in erba sintetica e oggi la riqualificazione di questa pista, grazie anche al PNRR. Ora la palla passa, per usare una metafora sportiva, le associazioni che dovranno custodire e utilizzare il più possibile l'impianto, in particolare quelle che si occupano di atletica. Da questo punto di vista il CONI ha già lanciato diversi progetti di coinvolgimento di associazioni ai giovani, generazioni nelle scuole. Proprio quest'anno è partito qui nella nostra Puglia e soprattutto nell'Abbate il progetto della Corsa di Miguel, che avrà il 19 gennaio il suo epilogo a Roma ma che nel mese di febbraio avrà la fase giovanile anche in tutte le province italiane. Speriamo che questo sia il volano giusto per cominciare a far muovere questi nostri ragazzi che li vedo un po' troppo fermi sulle loro sedie.